le galline gregarie si trovano bene nel loro recinto sono inconsapevoli della loro prigionia hanno vitto ed alloggio assicurato esse quando sono in gruppo obbediscono ad ogni ordine di chiunque promette loro un premio gradito seguitemi velocemente e vi dono del buon cibo fermatevi un momento alzate la testa in alto voltatevi a sinistra abbassate lo sguardo voltatevi a destra voltatevi a sinistra alzate la testa in alto tu che sei gallo ora dovrai fare anche la gallina tu gallina lasciati sottomettere da un papero in fondo il comportamento di molti gruppi umani è simile a loro molte persone non sanno di vivere in un recinto sono inconsapevoli di essere sfruttate seguono ciecamente gli orientamenti più assurdi dei leader anche quelli contro la loro stessa natura le galline fanno davvero riflettere anche sul nostro comportamento comune nella massa